Quanto riportato dalla stampa in queste ore, non solo non corrisponde alla verità, ma segnala anche un evidente tentativo di impoverire l'azione di rilancio dell'economia cittadina. Parola del sindaco di Eboli Massimo Cariello, che replica le accuse sugli oneri di urbanizzazione in area PIP. Sarebbe bastato informarsi, prosegue il primo cittadino, per sapere come la liquidazione del consorzio, voluta dagli stessi imprenditori e condivisa dall'amministrazione, sia un atto storico, decisione che ha consentito di risparmiare notevoli risorse, non gravando più sulle singole imprese. Alle parole del sindaco si è aggiunto il commento del professionista incaricato di perfezionare la procedura, Ciro Di Lascio. Sono rimasto sbigottito, afferma la lettura di notizie e cifre relative alla liquidazione del consorzio area PIP. Non solo le cifre sono false, ma in più si paventa una preoccupazione degli imprenditori che in realtà è piuttosto un'evidente soddisfazione. Grazie.